la parola torna ma anche a me oggi a te l'opera la scuola al canale passati da papà non parli dottie pp pp la fatta ci sarà io voglio questo poter farlo e io ci salgo la macchina da anni dai a te devi mandare a casa non ce la faccio è più oltre di me però io ci devo riuscire oh non fai dai oh hai sbagliato quella terza mica quella fratello aspetta spostatemi che ci sono le macchine Della Della come cosa sei scusa come sei l'ultimo passo di danza l'ultimo passo ecco la trascata del mio compagno la prossima volta la ruota è dritta eccola 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 no no ho fatto bene che cosa stanno che state facendo guarda baloso salutate che finisco ciao ciao